il premio internazionale lucrezia borgia edizione 2022 è stato assegnato al professor umberto tirelli per i suoi meriti scientifici il professor tirelli direttore sanitario e scientifico della clinica tirelli medical ex primario oncologo dell'istituto nazionale tumori di aviano qui abisceglie anche per ritirare un prestigioso premio sono veramente molto orgoglioso di ricevere questo premio perché tanto perché i premi fanno sempre molto piacere perché tutti noi siamo sempre felici quando siamo premiati perché ci danno un po di soddisfazione su quello sacrifici che abbiamo fatto nel tempo quindi i meriti scientifici per cui sono premiato sono stati diciamo sottolineati che sono quelli che io sono quello che ho studiato di più sui tumori dell'anziano sui tumori nell'aiz su la sindrome da fatica cronica l'ossigeno zonoterapia tante cose abbastanza nuove che sono stato forse il primo a farle un motivo per visitare anche la città di bisceglia è stata veramente un'enorme sorpresa grazie anche a un cicerone diciamo veramente molto molto preparato e credevo fosse solo un medico un ricercatore importante come il dottor tommaso fontana ma che invece mi ha dato proprio l'idea che noi medici possiamo fare anche i ricercatori nell'ambito diciamo culturale